L'autostrada L'autostrada non ha incroce a raso che l'attraversano. L'autostrada è dotata di speciali corsie per l'ingresso e l'uscita dei veicoli. L'autostrada è a carreggiate indipendenti o separate da sparti traffico. I motocicli con cilindrata di almeno 150 cm3 possono circolare in autostrada. Le macchine agricole non possono circolare in autostrada. Non tutti i tipi di veicoli possono circolare in autostrada. L'uscita dei veicoli dalle autostrade avviene tramite corsie di decelerazione. L'autostrada deve essere lateralmente recintata. Nelle autostrade possono circolare solo le autovetture. Nelle autostrade possono circolare tutti i tipi di motocicli. L'autostrada può comprendere piste ciclabili. Nelle autostrade possono circolare ciclomotori e motocicli con cilindrata fino a 125 cm3. Nelle autostrade possono circolare solo gli autoveicoli. Nelle autostrade possono circolare tutti i motocicli e ciclomotori. Nelle autostrade possono circolare conectare tutti i tipi di motocicli. Grazie a tutti